Buongiorno a tutti, faccio il mio auguro di un buon lavoro al progetto che avete presentato e conoscendo la professionalità e la sensibilità degli giornalisti presenti che faranno parte di questo progetto sono sicura che ci sarà sia lo spazio sia la giusta e corretta informazione anche per quello che riguarda il mondo dell'immigrazione perché io penso che spesso nei media, i media utilizzano il fenomeno di immigrazione come sinonimo di pubblica sicurezza e non è che ci sia un spazio giusto e una corretta informazione su quello che riguarda i fatti positivi cioè l'immigrazione vista come risorsa per questo territorio perché solo così io penso che i pregiudizi che si sono formati i preconcetti che la popolazione locale ha nei confronti della popolazione immigrata vengono a meno grazie e faccio i miei auguri